ho parlato, ecco, lo vedo, Matteo Buonasera dal Tribunale, dall'Ufficio elettorale dal Tribunale di Roma, sì come sapete appunto l'Ufficio elettorale non ha ammesso, ma vi posso fare una cronaca, poco prima delle 8 si sono riati qui come rappresentanti del PDL Milioni, che forse ricorderete Gianni San Marco, che è il coordinatore romano del PDL e il deputato Marsilio, si sono presentati sono entrati nell'aula sono rimasti nell'aula una decina di minuti, poi sono usciti noi abbiamo cercato di incorrì, ma sono stati praticamente coordonati dalla Polizia, sono stati inavvicinabili e non hanno rilasciato nessuna dichiarazione, noi siamo rimasti lì, un po' di tempo a aspettare, chiedendo al Tribunale che ci desse un sì o un no, insomma ci spiegasse, c'era anche un rappresentante di lista che non è stato fatto entrare, e poi alla fine appunto la notizia, come voi sapete, è uscita ma quello che è successo al Tribunale è quello che vi ho raccontato io adesso Ecco, a un certo punto Matteo, era sembrato che c'è stato un rinvio, per le 19 poteva uscire questa notizia, poi è stata rinviata alle 20 perché secondo te? Io non posso fare ipotesi, io però vi dico che confermo quello che tu dici quello che è successo dopo, che alle 20, quando noi eravamo davanti davanti all'aula del Tribunale e chiedevamo sia noi che gli avvocati, che i rappresentanti di lista di poter sapere qual era l'esito la risposta è creata e l'ufficio è chiuso L'ufficio è chiuso e poi hanno visto... Quindi si rimanda domani mattina Insomma, comunque è un po' particolare, un po' strano questo liter, ma resta collegato con noi finché puoi Mino Fucillo